Ballottaggio oggi e domani in tre comuni della provincia di Chieti, Francavilla al Mare, Vasto e Lanciano. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Nella città di Francavilla al Mare lo scontro è tra Luisa Russo, candidata del centro-sinistra, e Roberto Angelucci, espressione del centro-destra. Al primo turno la Russo aveva raggiunto il 48,56% delle preferenze, mentre l'ex sindaco Angelucci si era fermato al 29,63%. Ha votato tutto bene? Sì. Cosa si aspetta dal nuovo sindaco? Legalità e onestà. Ma più umiltà? Non lo so, che faccia qualcosa per questo paese, per Francavilla che è meravigliosa, rispetto per i cittadini. A Vasto la sfida è tra Francesco Menna, sindaco uscente del centro-sinistra, che al primo turno aveva ottenuto il 47,8% dei voti, e Guido Gian Giacomo del centro-destra, che si era fermato al 20,7%. A Lanciano gli aspiranti alla poltrona più alta di Palazzo di città sono Leo Marongiu, candidato del centro-sinistra, che ha firmato un accordo con il Movimento 5 Stelle, e Filippo Paolini, espressione del centro-destra. Il primo aveva raggiunto il 42,18% delle preferenze, mentre il secondo il 49,77%, tanto che inizialmente si pensava potesse farcela al primo turno.